febbraio 1961 la bufera si era abbattuta sulle montagne l'oscurità della notte invernale era squassata dal vento le raffiche scuotevano i rami nudi degli alberi trascinando mulinelli di neve sull'altura che dominava la valle la grande villa era a malapena visibile attraverso la cortina di fiocchi bianchi nella facciata rettangolare brillava il riquadro di un'unica finestra illuminata dietro quella finestra la signorina cinzia serpiero stava morendo la fiamma della lampada gas tremava per gli spifferi che si insinuavano negli infissi sconnessi e gettava ombre guizzanti sulle pareti macchiate di umidità maria entrò nella stanza portando una bacinella d'acqua e una pezzuola lanciò un'occhiata piena di apprensione alla sorella e si sentì stringere il cuore alla vista del volto pallido incorniciato dai capelli grigi nella sua camicia da notte orlata di pizzo cinzia sembrava rimpicciolita come una bambina che per gioco avesse indossato i vestiti della madre nevica mormorò maria evitò di proposito il suo sguardo non parlare disse cerca di riposare bagnò la pezzuola la strizzò e la stese sulla fronte della sorella da come scottava la febbre doveva essere salita ancora voglio che tu mi dica quando comincerà a nevicare il tono di cinzia nonostante la malattia era ostinato te lo dirò promettimelo mentre sprimacciava il cuscino e lo rimetteva sotto la testa della sorella maria cercò di stabilire se ci fosse un modo di rispondere senza impegnarsi non c'era a meno di non considerare cinzia una demente a cui occorreva mentire per il suo stesso bene ma non si sentiva ancora pronta per questo te lo prometto disse in fretta come se la velocità potesse rendere l'impegno meno vincolante una mano magra si aggrappò alla sua gonna gli occhi febbricitanti di cinzia cercarono i suoi ci siamo quasi credimi maria si sforzò di sorridere scuotendo la testa guarirai è solo un malanno di stagione hai sentito cosa ha detto il dottor celso il dottor celso era il medico condotto di tolengo due volte al mese visitava le frazioni sparpagliate nelle zone interne della valle distribuendo pillole e consigli nei casi più gravi lo si poteva avvisare per telefono ma a casa delle sorelle serpiero il telefono non era ancora arrivato così come il gas e l'elettricità non nevicava ancora quando tre giorni prima maria aveva macinato i quattro chilometri che separavano la villa dalla fattoria più vicina per telefonare al dottore i contadini si erano stupiti vedendola le sorelle serpiero non uscivano di casa molto spesso i prodotti del loro orto e la decima dei cacciatori che battevano le loro terre erano più che sufficienti a sostentarle quanto alla chiesa nella valle sapevano tutti che i serpiero erano seguaci della squadra e del compasso si diceva anche che nel 1725 un loro avo avesse dato ricetto a volter cosa succede signorina state bene le avevano chiesto i vicini dov'è il telefono si era limitata a ribattere i vicini avevano indicato l'apparecchio e si erano rispettosamente ritirati nelle vallate più interne il nome dei serpiero evocava ancora prestigio e autorità e maria d'altronde era troppo preoccupata per badare alle buone maniere la malattia di cinzia era cominciata con un po di spossatezza poi repentinamente era arrivata la febbre e con la febbre i discorsi strani strani come aveva chiesto il dottor celso mentre nell'anticamera di villa serpiero maria lo aiutava a sfilare il cappotto è convinta di stare per morire aveva spiegato maria la febbre l'ultima volta che l'ho misurata era quasi 39 mi porti da lei c'è un'altra cosa il dottor celso si era voltato ebbene sotto quello sguardo intelligente maria era arrossita lei non è di queste parti vero no vengo da voghera ci sono delle storie si era interrotta poi tutto d'un fiato come chi ingolli una medicina amara aveva detto mia sorella crede nella maledizione dei serpiero prego la maledizione dei serpiero è una storia che ci raccontavano i nostri vecchi se un serpiero muore quando nevica il suo spirito non può riposare in pace non capisco mia sorella ha paura di morire quando nevica il dottor celso aveva fatto un sorrisetto di condiscendenza non morirà naturalmente si era affrettata a convenire maria mi porti da lei aveva ripetuto il dottore era seccato un'ora per andare e una per tornare sotto un cielo plumbeo che non prometteva niente di buono non aveva tempo per i vaneggiamenti di una zitella avevano salito la scala che conduceva al piano superiore maria precedeva il dottore reggendo la lampada a olio le ombre guizzavano come lepri tra le crociere del soffitto cinzia è arrivato il dottore nessuna risposta il dottor celso con impazienza aveva avvarcato la soglia la minore delle sorelle serpiero sembrava sperduta nel grande letto a baldacchino le palpebre e bluastre erano abbassate sugli occhi una lunga treccia grigia posava come un serpente sul cuscino e aveva mormorato maria dorme l'aveva rassicurata il dottore tastando il polso smagrito che sporgeva dalle lenzuola la visita era stata accurata alla fine tornati al piano di sotto mentre si sciacquava le mani nel catino il dottor celso aveva commentato sono perplesso era stato allora che maria aveva cominciato a preoccuparsi davvero di solito il dottor celso era rassicurante e sbrigativo come se i mali che affliggevano la gente di montagna contassero meno di quelli dei ricchi villeggianti che venivano dalla città ignorava che i serpiero un tempo erano i signori della valle dalla rocca di verbenosa fino all'ultimo ponte sull'aneto per un attimo maria era stata sopraffatta dall'indignazione ma era riuscita a controllarsi cosa mia sorella aveva chiesto il dottore aveva scosso la testa bisognerebbe portarla all'ospedale e sottoporla a un esame approfondito ma muoverla in queste condizioni non si può fare proprio niente anziché risponderle il dottor celso aveva aperto la borsa di cuoio e ne aveva estratto una boccetta piena di pillole gliene dia una tre volte al giorno per tre giorni mi chiami se la febbre non passa i tre giorni erano trascorsi e la febbre non era passata e adesso stava nevicando il dottore non capisce niente ribatte cinzia con una punta di soddisfazione senza volerlo maria arricciò il naso il fiato della sorella era cattivo come se qualcosa dentro di lei si stesse guastando dalla visita del dottor celso l'aspetto di cinzia era peggiorato in modo allarmante le labbra si erano ritirate a scoprire i denti giallastri come tasti di pianoforte gli occhi sembravano precipitati dentro le orbite scure ormai manca poco ripete cinzia ricordi cosa diceva la nonna maria si sforzò di sorridere stai tentando di spaventarmi sono solo favole non esiste nessuna esitò un attimo prima di pronunciare la parola maledizione il braccio smagrito che la tratteneva per la gonna ricadde perché fai così perché non mi ascolti sai che succederà non succederà niente cinzia la fissò con una luce di rimprovero negli occhi devi farlo non dire se muoio quando nevica devi bruciare il mio corpo maria si sentì invadere dall'irritazione era tipico di cinzia perfino nel delirio della febbre dirle cosa doveva o non doveva fare fin da quando erano ragazzine pur essendo la sorella minore cinzia riusciva sempre a farle fare quello che voleva smettila esclamò il tono suonò più aspro di quanto fosse nelle intenzioni il corpo smagrito sobbalzò sotto le coperte maria si morse la lingua scusami disse vado a preparare il tè la voce di cinzia la bloccò mentre varcava la soglia voltati maria guardami maria obbedì sospirando vedo solo una zitella cucciuta tra poco vedrai ben altro se muoio quando nevica maria scappò fuori dalla stanza tappandosi le orecchie per non sentire al crepuscolo la bufera è passata il parco che circonda la villa è ammantato di neve il moretto a secco che segna il confine della proprietà è scomparso sotto la coltre bianca che si lividisce nell'oscurità crescente gli alberi spogli si ergono come nere sentinelle a marcare il tracciato invisibile del vialetto d'accesso dietro la villa incombono le montagne con i loro boschi incanutiti il passo a perlengo brilla di un candore abbagliante sotto la luna nella casa delle sorelle serpiero tutto e silenzioso dopo aver bevuto il tè l'umore di cinzia è migliorato con indicibile sollievo di maria quella morbosa fissazione sembrava averla abbandonata come se il placarsi della tormenta avesse sortito un effetto calmante sui nervi sovrecitati dalla febbre sua sorella è scivolata nel sonno maria ha riportato la tazza in cucina la lavata asciugata e riposta nella credenza adesso siede al tavolo la schiena rivolta al tepore della stufa domandandosi che cosa le riserverà il futuro se cinzia muore rimarrà sola non per la prima volta si pente di non aver preso marito nessun partito era abbastanza buono per loro padre povero babbo se avesse saputo e povera lei anche che aveva trascorso la giovinezza sognando parigi vienna londra mentre sognava occhi aperti il tempo era volato a una velocità vertiginosa anni come giorni decenni come settimane e adesso eccola qui osserva il volto riflesso nel vetro della finestra e vede una donna anziana una donna che presto rimarrà sola in una casa troppo grande e piena di memorie si riscuote le è sembrato che dal piano di sopra provenisse un rumore cinzia chiama silenzio cinzia balza in piedi e con il cuore in tumulto sale le scale sul pianerotolo buio si allunga una striscia di luce proveniente dalla camera dell'ammalata la porta cigola quando maria varca la soglia cinzia giace a occhi chiusi dalla bocca socchiusa proviene un gemito sottile come aria che sfugge da una tubatura mentre maria si avvicina al letto il corpo smunto e scosso da un brivido esala un profondo sospiro poi basta adesso nella stanza regna il silenzio maria sfiora la fronte della sorella la pelle è asciutta e fresca o fredda le appoggia una mano sotto il seno sinistro il corpo è così magro che può contare le costole ma non sentire il cuore cinzia morbora con un filo di voce poi si ritrae con un grido strozzato le mani della sorella che negli spasmi della morte erano serrate a pugno si sono rilassate aprendosi come strani fiori che sbocciano nella notte e maria vede che cosa sono diventate aprile 1961 i colpi al portone echeggiarono nell'atrio e nei corridoi rimbalzando sotto le volte del soffitto festonate di ragnatele basta così ordinò il maresciallo vinci l'appuntato scazzano lasciò andare il pesante batacchio di ferro che batte un'ultima volta contro il portone se dentro c'è qualcuno non è in grado di aprire disse il dottor celso dal suo tono si capiva che non credeva nemmeno a questa poco rassicurante eventualità il maresciallo aggrottò la fronte fin da quando una frotta vociante di contadini era venuta ad avvertirlo il pomeriggio precedente sapeva che quella faccenda sarebbe stata una grana sembrava che nessuno avesse notizie delle sorelle serpiero dalla grande nevicata di febbraio quasi tre mesi prima l'inverno era ormai trascorso e i bucaneve sbocciavano nei pascoli più incuriositi che preoccupati i contadini delle fattorie dei dintorni avevano formato un gruppetto e si erano recati a controllare la villa appariva disabitata le imposte erano serrate il comignolo non buttava fumo nessuno aveva risposto ai richiami soltanto a uno di loro era sembrato di vedere una faccia che sbirciava da una finestra del piano di sopra ma il valore della testimonianza era compromesso dal fatto che il testimone era gian della lisca uno sterratore a cottimo che come il maresciallo sapeva bene era solito farsi pagare in vino tornò l'appuntato torrisi gli stivali che sollevavano schizzi di fango dal pantano primaverile ho fatto il giro completo della casa annunciò le porte e le finestre del pian terreno sono tutte chiuse nessun segno di effrazione il maresciallo ci rimase male ammise con se stesso di aver sperato in un delitto sarebbe stata una spiegazione tragica ma ragionevole detestava di tutto cuore i misteri le sciarade e gli enigmi d'accordo borbottò mentre amo la porta posteriore cadde con due spallate l'appuntato torrisi fu il primo a varcare la soglia trascinato dal suo stesso slancio lo seguirono il maresciallo vinci l'appuntato scazzano il dottor celso l'interno era buio e freddo i nomi delle sorelle scanditi in un unisono imperfetto dalle quattro voci risuonarono vanamente il piano terra eccezion fatta per la polvere e le ragnatele era in ordine in cucina posata sul tavolo trovarono una teiera con dei fondi ammuffiti di tè salirono di sopra sul corridoio si aprivano cinque porte la sesta in fondo era stata scardinata e pendeva dai gangheri il maresciallo e il dottor celso vi si diressero mentre gli appuntati perlustravano le altre stanze molto strano osservò il dottore appena oltre la soglia giaceva un cumulo di mobili che sembravano ammucchiati alla rinfusa si trattava chiaramente dei mobili che avevano arredato la stanza ma chi li aveva disposti in quel modo e a che scopo è una barricata come dice chiese il dottore è una barricata ripete il maresciallo qualcuno ha cercato di sbarrare la porta ma perché nel momento in cui lo disse il dottor celso si rese conto che la domanda che avrebbe voluto porre era in realtà per proteggersi da cosa qualcosa scivolò alle sue spalle nel corridoio facendolo sobbalzare si voltò era l'appuntato scazzano le altre stanze sono a posto maresciallo una camera da letto con un letto come si dice baldacchino vuota un'altra camera vuota pure quella una specie di ripostiglio l'ultima è una stanza da cucito solo allora notò la catasta di mobili e spalancò gli occhi cos'è successo qui niente tagliò corto il maresciallo nessun segno delle sorelle chiese il dottore nessuno il dottore il maresciallo si guardarono ognuno contemplò nell'altro la propria perplessità come in uno specchio alle tre del pomeriggio l'ispezione era terminata villa serpiero era stata perlustrata da cima a fondo dai cunicoli delle cantine ingrommati di funghi pallidi fino al solaio il cui pavimento di assi scricchiolanti era costellato di escrementi di topo delle sorelle non c'era traccia né era stato rilevato alcunché di strano al di fuori della misteriosa barricata di mobili nella stanza del piano superiore il maresciallo redasse un rapporto ammirevolmente prudente e il tribunale di genova nominò un curatore nella persona dell'avvocato cavalier ermanno ambrogi per badare alla proprietà finché non si fosse fatto avanti qualche erede passò la primavera e venne l'estate l'autunno successivo il dottor celso andò in pensione trasferì con la moglie in riviera in un piccolo bilocale che aveva acquistato a diano marina segnandò così l'ultima persona che aveva visto le sorelle serpiero venne l'inverno un inverno insolitamente crudo anche per i parametri della valle muria il fiume aneto gelò il giorno di san giuda patrono di mabbio e tale sarebbe rimasto fino ad aprile la vigilia di natale una valanga bloccò la strada del passo a perlengo per raggiungere la pianura adesso i camion carichi di legname e di carbone dovevano dirigersi a sud lungo la statale 217 fino al capoluogo quindi imboccare la a7 e tornare indietro 120 chilometri per farne 30 nei paesi e nelle frazioni dell'alta valle cominciarono a correre le voci i cacciatori presero l'abitudine di evitare i boschi intorno a villa serpiero dove era piuttosto comune imbattersi in strani graffi sui tronchi degli alberi e in impronte ancora più strane nella neve poi cominciò il fenomeno che divenne noto come le bussate nel cuore della notte le porte delle fattorie più prossime alla villa venivano squassate da colpi violenti come se qualcuno battesse per entrare i paurosi nascondevano la testa sotto il cuscino i più baldanzosi la sporgevano fuori dalla finestra per scrutare nell'aia buia e immancabilmente deserta va da sé che nessuno mai osò aprire di giorno era tutto un martellare per rinforzare gli usci di stalle e cascine il calare del crepuscolo coglieva quella gente semplice come uno sgomento improvviso per fortuna non durò molto le bussate non cessarono di colpo ma si indebolirono come se la forza che le animava qualunque fosse stesse perdendo vigore dopo l'epifania era tanto se una volta o due la settimana qualcuno udiva un educato toc toc alla fioritura delle primule il fenomeno era cessato del tutto i balligiani più accorti non mancarono di cogliere le implicazioni di questo mutamento e conclusero che quella roba là fosse in qualche modo legato al rigore dell'inverno e alla neve il trascorrere del tempo confermò questa supposizione da aprile a novembre i boschi e i pascoli dell'alta valle erano luoghi tranquilli solo con l'arrivo della brutta stagione la faccenda ricominciava ma siccome i fenomeni erano per lo più circoscritti alla villa e alle sue immediate vicinanze gli abitanti del luogo trovarono che la soluzione più semplice fosse quella di evitare per quanto possibile l'area villa serpiero invecchiò senza grazia gli infissi il legno marcirono la facciata si coprì di edera e rosio caprifoglio dopo una nevicata particolarmente abbondante una parte di tetto crollò e quella che un tempo era la stanza del cucito ospitò un nido di gufi un'ombra sembrava gravare sulla proprietà e la gente non passava volentieri da quelle parti si diceva che talvolta all'imbrunire potevi sentire una voce che chiamava il tuo nome seguita da uno scroscio di risate nel 1971 a dieci anni dall'ultima volta che si aveva avuto notizia delle assenti il tribunale di genova emanò un provvedimento di morte presunta nei confronti delle sorelle serpiero come previsto dalla legge in mancanza di eredi la proprietà passò allo stato e coerentemente con tale assunto la villa rimase chiusa e abbandonata per due decenni nel 1984 fu emanata una legge regionale che stabiliva il recupero degli immobili pubblici in disuso gestiti dall'agenzia del demanio case cantoniere masserie piccole stazioni eccetera tramite apposita gara gli immobili furono ceduti in concessione gratuita a operatori privati e imprese cooperative che ne garantissero la riqualificazione al fine di rispondere alle esigenze di sosta permanenza svago e relax dei turisti i lavori di ristrutturazione di villa serpiero cominciarono nell'aprile del 1988 l'anno seguente l'istituzione del parco naturale regionale della montagna blu accrebbe inopinatamente il potenziale turistico dell'area nel giugno 1991 venne inaugurato l'hotel belle époque nel 1992 la struttura perse gli accenti e rimase hotel belle epoca febbraio 2018 era la loro prima vacanza da due anni a quella parte e sonia avrebbe preferito trascorrerla da qualche altra parte ma non era molto brava a dire quello che pensava quando alfredo aveva proposto la valle muria sonia aveva sorriso e detto di sì era sempre alfredo a decidere alfredo sapeva quello che voleva tutto il contrario di lei avevano lasciato la a7 mezz'ora prima al casello di tolengo imboccando una strada tortuosa che correva tra boschi e miseri villaggi a un certo punto avevano raggiunto un bivio e preso la direzione indicata da un cartello sforacchiato di pallini passo a perlengo nove chilometri da allora la piccola fiat arrancava sui tornanti immersa in un paesaggio nebbioso da cui emergevano a tratti altri boschi e altri miseri villaggi ormai non dovrebbe mancare molto ripete alfredo non era chiaro se cercava di convincere lei o se stesso si al disse sonia oltre il parabrezza che incurante dello sbrenatore seguitava ad appannarsi il nastro di asfalto si svolgeva davanti al cofano con monotonia quasi ipnotica a furia di fissarlo sonia cominciò a sentirsi assonnata provò a lottare contro il torpore che la saliva alfredo non approvava che si dormisse in macchina stava per cedere suo malgrado quando la donna apparve sul ciglio della strada fu questione di un attimo il balenio di un viso pallido nel mulinare della nebbia lo svolazzare di una chioma grigia e incolta ehi esclamò per la sorpresa alfredo sobbalzò e premette il freno cosa succede c'era qualcuno come qualcuno una donna là dietro io non ho visto nessuno ti dico che c'era alfredo si strinse nelle spalle d'accordo e allora forse ha bisogno di un passaggio sta per mettersi a piovere di nuovo e sembrava molto anziana lui sbuffò non gli piaceva interrompere la guida era come chiedere a un cavaliere e di scendere da cavallo quando la accontentava come in questo caso lo faceva con paternalismo quasi a soddisfare i capricci di una bambina accostò la fiat al ciglio della strada e scesero il silenzio calò su di loro brandelli bianchi simili a sbuffi di fumo fluttuavano sulla carreggiata l'odore del motore surriscaldato si mescolò a quello umido della nebbia dov'è disse al freddo era là indicò sonia non c'è nessuno non c'era nessuno in effetti alfredo tornò verso la macchina scrollando la testa sonia si sentì stupida doveva essersi assopita e aver sognato arrivarono all'imbrunire l'hotel era un pugno di luci gialle che sovrastava la stretta gola su cui la strada faticosamente serpeggiava la nebbia si era sollevata rivelando un aspro e desolato panorama montuoso gli ultimi bagliori del sole radevano la sella del passo nel fondo valle era già notte fonda ci siamo annunciò alfredo ti piace il tono rendeva chiaro che non si aspettava tanto un giudizio di sonia quanto piuttosto la conferma del proprio era un convinto sostenitore dei giudizi unanimi molto rispose sonia alfredo condusse la fiat nel parcheggio che sorgeva di fianco all'edificio principale c'erano solo quattro auto oltre la loro la hall era surriscaldata soffocante le plafoniere piene di mosche morte proiettavano diapositive entomologiche sul soffitto la donna di mezza età che sedeva dietro il bancone della reception li scrutò con occhi da gufo dietro un paio di enormi occhiali di plastica abbiamo una prenotazione le disse alfredo casalino la donna chinò la testa per consultare il registro sonia notò che i suoi capelli rossi erano grigi alla radice casalino annui indifferente firmarono i moduli e lasciarono in custodia le carte d'identità la donna prese una chiave dalla bacheca alle sue spalle quasi tutte le altre chiavi pendevano dai ganci di ottone camera 206 secondo piano disse purgendola ad alfredo sonia sentì lo sguardo della donna su di sé mentre si dirigevano verso l'ascensore le porte della cabina si aprirono sul corridoio del secondo piano le pareti erano tappezzate di moquette e illuminate da lampadine dietro paralumi di carta gialla sonia allungò una mano a sfiorare la moquette e la ritrasse subito era più folta di quanto si aspettasse con una smorfia inconsapevole di ripugnanza sfregò la punta delle dita sui pantaloni eccoci disse alfredo la camera 206 sorgeva a metà del corridoio alfredo aprì la porta e posò le valigie oltre la soglia mentre entrava lo sguardo di sonia fu attratto da un movimento in fondo al corridoio nella penombra non riuscì a vedere bene le sembrò che qualcuno arretrasse in fretta dietro l'angolo come per sottrarsi alla vista la camera era arredata con un letto matrimoniale un guardaroba due ante una sedia impagliata e una scrivania sopra la scrivania campeggiava il listino dei prezzi e una schilografica dell'edificio la finestra affacciava sul retro sopra una tettoia chiazzata di neve chiudendo le tende sonia vide che la nebbia stava calando di nuovo avevo chiesto una camera con vista osservò alfredo sì al a questo mondo tirano tutti a fregare è vero al lui sbuffò ma cosa vuoi saperne sonia non disse niente mentre disfaceva i bagagli a un certo punto lo sentì avvicinarsi e presagendo ciò che stava per accadere si irrigidì le braccia di lui la cinsero da dietro stavo pensando una cosa sì al alle otto scesero a cena i pochi commensali occupavano una mezza dozzina di tavoli sparpagliati nel salone troppo vasto il tintinio delle posate il brusio delle conversazioni echeggiavano sotto le travature affumicate del soffitto un cameriere dall'espressione indolente li guidò al tavolo e depositò davanti a loro due menù rilegati in similpelle sonia si trovò a contemplare il solito catalogo di francesismi e definizioni immaginifiche fantasie capricci delizie assiette tournée d'eau alla fine ordinò un riso mantecato ai profumi del sottobosco che si rivelò essere un banalissimo risotto ai funghi mentre alfredo scelse il tagliere di delizie morbide e stagionate con miele di montagna seguito dalla magrede canale mangiarono in silenzio come sempre alfredo sosteneva che la conversazione a tavola non è salutare per la digestione fu così che a sonia capitò di cogliere una frase proveniente dal tavolo alle sue spalle e incuriosita cominciò a seguire quel dialogo sono solo pettegolezzi diceva una voce maschile ma la ragazza è sparita davvero ribatte una voce femminile sarà scappata con qualcuno l'hanno cercata male evidentemente non è la prima che scompare sai ma via in tanti anni con fare indifferente sonia estrasse lo specchietto dalla borsa e fingendo di controllare il trucco sbirciò dietro di sé le voci appartenevano a un'anziana coppia di coniugi dell'uomo scorgeva la nuca calva della donna il volto cavallino incorniciato da una permanente azzurra intrigata non riuscendo a indovinare l'oggetto della conversazione continuò a oregliare le previsioni dicono che è in arrivo una perturbazione continuò la donna forse chiuderanno il passo e allora non voglio restare bloccata qui quando nevica dicono che l'attività aumenta l'uomo sbuffò lo so che non ci credi ribatte lei non credi mai a niente ma io ci credo nessuno ti impedisce di farlo quando nevica l'attività aumenta lo sanno tutti io non ho mai visto niente tu non hai mai visto niente nessuno ha mai visto niente per forza lo vedono solo le persone che sonia non seppe mai come finiva la frase alzando lo sguardo incontrò quello di alfredo che la fissava come se aspettasse qualcosa confusa si rese conto della presenza del cameriere si chiese i signori desiderano altro ripete il cameriere no grazie disse prendi ancora qualcosa suggerì alfredo poi ti verrà fame sono sazia davvero alfredo scosse la testa il cameriere imperturbabile si allontanò mentre tornavano in camera sonia ebbe di nuovo l'impressione di cogliere un movimento in fondo al corridoio tese l'orecchio per sentire lo scatto di una porta che si chiudeva ma non udì niente incuriosita mosse due passi in quella direzione dove vai disse alfredo vieni dentro eccomi quando si svegliò il mattino dopo la camera era invasa da una luce pallida e acquosa nella nebbia che roteava fuori dalla finestra svolazzavano piccoli fiocchi bianchi nevicava alfredo uscì dal bagno asciugandosi i capelli con una salvietta sei sveglia disse sì sbrigati a prepararti ho fame passando davanti al banco della portineria sonia notò che tutte le chiavi del secondo piano erano appese alla bacheca avrebbe voluto fermarsi a porre una domanda alla donna con gli occhiali di plastica ma non voleva farlo davanti ad alfredo non voleva condividere con lui quel piccolo mistero era soltanto suo l'occasione arrivò al termine della colazione alfredo si alzò prima di lei e annunciò che tornava in camera rimasta sola sonia attese qualche minuto sorseggiando il caffè poi si alzò e si recò nella hall dietro il bancone non c'era nessuno oltre il vetro smerigliato di una porta un'ombra sottile camminava avanti e indietro sospirò impaziente non aveva molto tempo finalmente la porta si aprì e la donna fece capolino sulla soglia contemplandola con la solita espressione vacua dietro le spesse lenti desidera sonia si rese conto con sgomento che non sapeva come formulare la domanda mi chiedevo annaspò al secondo piano c'è qualche altra camera occupata l'espressione della donna era impassibile perché ebbe un'intuizione stanotte ho sentito dei rumori intende fare un reclamo no naturalmente niente di tutto questo è solo solo una curiosità la donna scosse la testa non c'è nessun altro al secondo piano disse soltanto voi la ringrazio salina ascensore premette il tasto 2 le porte si chiusero e si riaprirono sul corridoio rivestito di moquette il suo sguardo corse subito al fondo niente si mosse stavolta quasi delusa avanzò sulla passatoia verde le porte delle camere sfilarono accanto a lei superò la 206 e andò avanti giunta nel punto in cui il corridoio curvava a gomito si fermò esitante fu il pensiero di elfredo dell'espressione condiscendente con cui avrebbe accolto quella sua titubanza a farla decidere svoltò l'angolo il corridoio terminava dopo pochi passi davanti a una porta era diversa da quelle delle altre era massiccia e di aspetto antico con pesanti cerniere di ferro borchiato e una catena chiusa da un grosso lucchetto che passava in un anello fissato al muro la contemplò pensierosa doveva essere una porta di servizio ma non aveva l'aria di essere molto usata i margini delle cerniere erano arrugginiti eppure il lucchetto sembrava recente stava riflettendo su questa apparente contraddizione quando una mano si posò sulla sua spalla gridò cosa stavi facendo le chiese elfredo sembrava più sorpreso che seccato lei fu grata dell'abitudine di abbassare lo sguardo perché rendeva più semplice mentirgli mi sono persa disse potevi tornare indietro ho avuto paura stavo per chiamarti questa ammissione lo ammansì definitivamente sorrise chissà cosa faresti senza di me nevicò per tutta la notte a mezzogiorno la visibilità era quasi nulla la neve fioccava lenta e fitta si accumulava su davanzali tettoie e balconi formava gonfi cappelli sui lampioni del parcheggio i cui globi pallidi emergevano a malapena dalla foschia dopo pranzo alfredo si ritirò in camera per schiacciare un pisolino mentre sogna restava a leggere al bar sorseggiando pigramente il suo tè si scoprì a ripensare alla conversazione che aveva origliato la sera prima chissà a cosa si riferiva la donna con quel discorso sull'aumento dell'attività quando nevicava era davvero strano per qualche motivo la parola le fece venire in mente ciò che per due volte aveva visto in fondo al corridoio del secondo piano le sembrò una definizione perfettamente adeguata attività ecco cos'era posò la tazzina e si contemplò le mani pensierosa era sempre stata una donna insicura in alfredo aveva trovato quello che cercava una risposta a ogni domanda e pazienza se a volte la risposta sembrava troppo semplice troppo brutale era sempre meglio dell'incertezza la porta in fondo al corridoio però aveva cambiato le cose anziché spaventarla quell'incertezza la affascinava perché quella porta era lì che cosa custodiva non riusciva a smettere di pensarci la notte prima l'aveva perfino sognata aveva sognato di svoltare l'angolo e di trovarla aperta esitante aveva avvarcato la soglia la stanza dietro la porta rassomigliava alla camera della sua infanzia era esattamente quella anzi con incredulità e commozione sonia aveva passato in rassegna giocattoli libri vestiti che credeva perduti per sempre poi come sovente accade il sogno aveva assunto una piega cupa un senso di angoscia si era dronito di lei mentre si rendeva conto di non essere più sola nella stanza in un angolo una vecchia la osservava immobile aveva lunghi capelli grigi sporchi e annodati e un'espressione di bramosia famelica ne animava i lineamenti volpini sonia avrebbe voluto giustificarsi chiedere scusa per l'intrusione ma l'immobilità e il silenzio della vecchia erano raggelanti si limitava a guardarla con quell'espressione terribile negli occhi il suo sguardo possedeva una strana forza di persuasione poco a poco fissandola sonia aveva capito quella vecchia sgradevole era lei stessa suo era il volto magro e aguzzo suoi i lunghi capelli sudici stava contemplando la propria maschera di morte a questo punto si era svegliata soffocando un gemito nel cuscino eppure stranamente il sogno non le aveva lasciato strascechi di turbamento si era riaddormentata quasi subito le fiamme del camino brillavano negli occhi di vetro degli uccelli impagliati facendo guizzare l'ombra delle loro ali spalancate sulle pareti nel bar erano rimasti soltanto lei e il barista a un tratto l'uomo alzò il volume della televisione trasmettevano il bollettino meteo un fronte di bassa pressione proveniente dall'atlantico stazionava sugli appennini erano previste piogge abbondanti e nevicate anche di notevole intensità sopra i 500 metri di quota il bollettino terminò e il barista riabbassò il volume mi scusi disse sonia si sentiva in preda una strana ebbrezza che la faceva sentire disinvolta e coraggiosa vorrei farle una domanda il barista era giovane e sembrò imbarazzato ma certo borbottò ho notato che seguiva il meteo sì signora la preoccupa la neve il barista si strinse nelle spalle un po posso chiederle il perché forse deve tornare a valle no signora durante la stagione abito qui allora perché ma non non è forse perché quando nevica l'attività aumenta il barista non era un bravo attore trattenne malamente un sussulto non capisco di cosa sta parlando signorina buffonchiò e le voltò le spalle dopo cena guardarono la televisione c'era una partita della squadra di elfredo sonia pensò che fosse una coincidenza fortunata perché la partita avrebbe assorbito tutta l'attenzione di lui impedendogli di accorgersi quanto lei si sentisse irrequieta il pensiero della porta in fondo al corridoio non la abbandonava mai l'immagine della porta era sempre davanti ai suoi occhi il legno grigio bucherellato dai tarli le cerniere arrugginite il pesante lucchetto doveva compiere uno sforzo cosciente per impedirsi di alzarsi e correre là all'intervallo perfino al ebbe un vago sentore del suo tumulto interiore qualcosa non va le chiese no al rispose sicura sembri agitata per un momento valutò la possibilità di parlargli fu un momento molto breve dentro di lei qualcosa si ribellava all'idea di condividere la porta in fondo al corridoio con lui o chiunque altro era sua soltanto sua sorrise attingendo a riserve di disinvoltura che non credeva di possedere sto benissimo terminata la partita attese pazientemente che lui svolgesse tutti i minuziosi preparativi per andare a letto sembrava che non dovesse finire mai finalmente si coricò accanto a lei e spense la luce non era una di quelle sere per fortuna buonanotte al buonanotte un attimo dopo russava già sonia aspettò ancora un po per essere sicura quindi scivolò piano fuori dal letto e cercò attentoni la vestaglia orientandosi con la striscia di luce sotto la porta raggiunse l'ingresso e girò silenziosamente la chiave finché non udì lo scatto della serratura sporse fuori la testa guardando a sinistra e a destra il corridoio era deserto e eccezion fatta per il ronzio delle lampadine dietro i paralumi di carta gialla silenzioso cominciò a camminare i suoi piedi scalzi non facevano alcun rumore sulla passatoia ormai aveva quasi raggiunto l'angolo un rumore la immobilizzò un debole clangore metallico seguito da un tonfo sapeva cos'era sentì i peli delle braccia che si rizzavano sfregando contro la stoffa della vestaglia con il cuore in gola svoltò l'angolo non si era sbagliata il lucchetto e la catena erano scivolati a terra la porta era succhiusa e un rettangolo di luce fredda si allungava sulla passatoia esitante sogna toccò il battente e lo spinse indietro la porta si spalancò senza rumore dietro scorse una stanza debolmente illuminata dalle candele rivestita fino al soffitto di pannelli di legno scuro sul pavimento tappeti grigi di polvere e sudiciume al centro un letto a baldacchino sogna avarcò la soglia e mosse un passo all'interno solo allora notò la donna stava ritta davanti a una finestra incrostata di ghiaccio voltandole le spalle indossava un'antiquata camicia da notte di stoffa chiara lunghi capelli grigi le piovevano sulla schiena vedendo la sonia provò uno strano miscuglio di esultanza e terrore le sembrava che tutta la sua vita fosse stata solo una lenta preparazione a questo momento è permesso mormorò la donna alla finestra non disse niente e non si voltò sonia fece un passo nella sua direzione i suoi piedi smuovevano uno strato di polvere che sembrava intatto da decenni non si domandò come la donna non si domandò come la donna avesse potuto raggiungere la finestra senza lasciarvi un segno giunta a poche spanne si fermò adesso vedeva chiaramente che la camicia da notte era fiorita di muffa ebbe un attimo di esitazione uno solo per quanto amara fosse la risposta finalmente l'aveva trovata stava raccogliendo il coraggio di toccare la spalla smagrita sotto la pudrida stoffa quando qualcosa frusciò nell'angolo opposto della camera si voltò in tempo per vedere l'altra donna che carponi strisciava rapidamente verso di lei